salve a tutti e bentrovati oggi parleremo con gadamer cercheremo di interpretare e quindi ci approcciamo al suo testo cardine verità e metodo dove lui davvero scardina ogni questione verità e metodo grandissimo testo che è stato per me devo dire un punto fondamentale è stato davvero formativo e ricordo proprio che all'università appena iniziai approcciarmi a gadamer non sapevo che pesci pigliare ero confusa e perplessa chiesi consiglio al professore in questione quello che con cui poi avrei dovuto dare l'esame e lui mi illuminò perché mi suggerì di passare attraverso la traduzione di Gianni Vattimo ed è curiosa questa coincidenza perché proprio in questi mesi che ho ripreso in mano questo testo per riesaminarlo e proporlo poi a voi a distanza di decenni non appena mi sono messa a rispolverarlo quasi un mese dopo è giunta la notizia della morte di Vattimo e quindi davvero sembra quasi che si richiamino che siano legati e io a loro e loro certamente sono molto legati non solo perché Vattimo ha curato la traduzione vedremo anche che cosa si intende per traduzione di questo autore ma anche lo stesso gadamer poi ci ci spiega il suo legame con Vattimo che al merito proprio di tradurre in modo libero privo di quella stretta corrispondenza linguistica non rimane imbrigliato nella lingua e ciò ha fornito un documento possiamo dire davvero per valore per bellezza per chiarezza davvero pregevole il traduttore ci dice lo stesso gadamer non deve essere una macchina precisa deve avere conoscenza naturalmente della lingua dell'autore e del suo pensiero anche questo è fondamentale e Vattimo con l'ermeneutica intratteneva rapporti davvero eccellenti e che gli provenivano proprio anche dal suo maestro pareison prima di tutto si deve inquadrare gadamer e il fatto che fosse un filosofo platonico e questo non è un dettaglio adesso andremo per gradi lui proprio scriveva filosofare con platone non criticare platone questo è il compito e va detto che proprio molti studiosi dei primi decenni del ventesimo secolo in germania si riunivano per studiare per meditare sui classici della letteratura e gadamer aveva un bagaglio non indifferente a questo proposito basti pensare che studiava in greco platone dalla quarta ginnasio quindi lui era un autore molto colto molto preparato molto acuto affascinato dalla dialettica della domanda ecco questo è un aspetto importantissimo qui vengono dedicati proprio interi capitoli su questa dialettica della domanda sul modo di impostare la domanda estremamente importante e di rintracciare il senso della domanda stessa il vero dialettico infatti chi è è colui che sa condurre il dialogo in modo ben determinato secondo la proprio la giusta direzione che è una direzione aperta che spesso porta a sentire a rispondere sì o al contrario ma altrettanto spesso a dissentire e quindi a rispondere no e infatti nei dialoghi anche platonici c'è sempre queste questo bianco nero questa dicotomia questo assenso di senso e la prima condizione dell'arte del dialogo è che l'interlocutore possa sempre seguirlo è proprio una direzione di apertura uno dei concetti che più mi ha intrigato poi e che ora cercherò di spiegarvi un poco per chi magari ancora non non lo mastica particolarmente è il circolo ermeneutico che a partire da schermacher devo andare un po più indietro è l'immagine metaforica è proprio che rappresenta il punto centrale questo circolo ermeneutico per capire cioè la singola parola di un testo occorre comprendere il contesto intero in cui è inserita per capire il particolare si parte dall'universale viceversa si cerca di capire l'universale partendo dalla parola singola cioè dal particolare questo movimento è un movimento circolare non rettilineo per schermacher ha proprio come fine la comprensione del testo e gadamer assorbe questo messaggio coniugandolo vedremo che lui proprio riprende schermacher direttamente indirettamente e lo collega poi ai dialoghi platonici alla visione di nice e heidegger ma andiamo per gradi nel fedro di platone sono proprio legate dialettica e retorica eros e amicizia e poi ancora arte l'afflato religioso quindi tutti questi aspetti piuttosto variegati tutti molto interessanti che meriterebbero già solo una pausa uno per uno e ma voi potrete andarli a indagare comodamente e qui basti dire che si prende le mosse non non dalle premesse questo è tipico dei dialoghi platonici in questo caso anche dal del fedro ma dalle conclusioni e con heidegger si supera poi ancora schermacher e il circolo ermeneutico come metodo diventa un movimento strutturale determinante ma un movimento che non è mai conclusivo che mette dinamicamente in moto il circolo ed è sempre un progetto che si evolve continuamente in fieri e i cosiddetti anche pre concetti le presupposizioni o i pre giudizi non sono da intendere in senso negativo come qualcosa che ci influenza negativamente perché noi partiamo da queste idee che ci siamo fatti da queste concezioni quindi il senso negativo comune quando noi intendiamo preconcetto ma qui è in senso letterale preconcetto che viene prima del formarsi del concetto e sono ciò che mette in moto proprio il circolo platone dirà che lo scritto ha il suo significato solo per colui che già sa come mezzo di richiamo alla memoria e gadamer ribadisce riferendosi al fedro che senza pre comprensione non è possibile una comprensione dei testi quindi occorre un altro aspetto che è importante e cercherò anche qui di restituirvelo ed è il valore proprio ontologico dato da platone alla bellezza perché questi concetti non sono qualcosa di arido l'arido vero direbbe leopardi ma ciò che gadamer riprende e scrive che la bellezza può anche essere percepita come il risplendere di qualcosa di ultraterreno quindi è un afflato a qualcosa che trascende la realtà l'arido vero il piano solamente immanente e che però tuttavia presente proprio incarna ciò che è visibile ciò che noi vediamo ciò che noi osserviamo o tocchiamo gadamer spiega poi che per platone il bello non è solo simmetria ordine in questo aspetto classico ma è la manifestazione sensibile attraverso la vista dell'apparire stesso il senso della vista l'aspetto percettivo visivo è proprio un altro aspetto cardine per capire questa ottica ermeneutica kalos kaiagatos frase che esprime le cose belle e buone è proprio questa luce e questo risplendere che non è quella del sole ma può essere anche simboleggiata dal sole ma è il nus è lo spirito e che non mostra solo il senso della della misura dell'ordine dell'armonia come vi dicevo della simmetria ma mostra il senso stesso dell'essere la sua verità ontologica lo disvela come disvelatezza viene detto e andiamo ancora di più ad approfondire perché chiaramente voi capite questo è un argomento complesso molto che non si finisce mai in fieri e non si finisce mai di indagare fino in fondo questo rappresenta il suo fascino la sua bellezza non lasciatevi né scoraggiare né come è successo con me all'inizio ero molto giovane alle prese con questo filosofo volevo subito vedere dove andava a parare no 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 assolutamente non ci interessa sapere dove si va a parare occorre capire i principi i presupposti ontologici i concetti preconcetti nel senso che vi dicevo prima platone poi sempre partiamo da lui è il primo filosofo proprio che ha collegato la bellezza con la verità e in questo senso anche vi ricordo un mio video proprio su questo tema e il bello cioè il modo con cui il bene appare buono e bello per gli antichi greci erano due facce di una stessa medaglia si fa manifesto da se stesso da se stesso un altro tema che mi fece mi fa sempre riflettere è contenuto nel richiamo ai versi dell'agamennone di eschilo che questa preghiera a zeus cantata dal coro si dice che il dio apri la via che porta la saggezza fissando la legge che al sapere si può giungere solo mediante la sofferenza e che la bilancia della giustizia concede sapere solo a chi ha sofferto questo aspetto davvero mi ricordo che da ragazza mi ha talmente incuriosito che dopo ho voluto proprio andare a vedere in che senso proprio veniva trattato ho letto questo sono andata a vedere la tragedia di di eschilo e perché questo tema della sofferenza che ci fa giungere alla sapienza al sapere alla conoscenza profonda che non è un mero indottrinamento ma è qualcosa che forma l'uomo e ciò che l'uomo deve apprendere attraverso la sofferenza è un intendimento giudizioso dei suoi limiti e quindi è proprio questo l'andare a toccare i propri limiti l'insopprimibilità da una parte di questi e dall'altra l'afflato verso il divino l'istanza del divino che in noi ci richiama sempre questo frammento del divino che in qualche modo è in noi e noi dobbiamo farci i conti e però che non ci risparmia delusioni perché proprio noi ci dobbiamo confrontare continuamente con finito e infinito con i nostri limiti da una parte e con invece il volerli superare e questo porta sempre aspettative e delusioni la domanda puntuale e centrale è in che senso la sofferenza aiuta proprio da un punto di vista ermeneutico perché non perdiamo di vista che qui si parla di verità e di metodo poi vi dirò che cosa intende Gadamer sia per verità come per metodo ma è da un punto di vista ermeneutico c'è dell'interpretazione è molto importante la risposta che Gadamer dà cioè ritrovare il senso del dolore e della sofferenza anche attraverso elementi pedagogici di educazione non solo ai ragazzi ai fanciulli alle nuove generazioni ma quella che è una auto educazione continua che tutti noi viviamo dovremmo comunque continuare a educarci o auto educarci e purtroppo nel nostro tempo manca la resistenza lui fa notare necessaria per sviluppare la propria personale autodisciplina cosa che invece in oriente questo elemento dell'autodisciplina è molto molto accentuato Gadamer pensate questo aspetto dell'autodisciplina della resistenza della resilienza come oggi si ama dire lo dimostra con i fatti pensate che a vent'anni si era ammalato di poliomelite e questa malattia lo aveva totalmente paralizzato ma la forza la forza dello spirito acquista proprio mediante l'esperienza del dolore acquista sempre più forza lo spirito e ciò aiuta a vincere anche i mali fisici e naturalmente rafforza il carattere quindi vedete che questo aspetto della sofferenza è molto importante un aspetto ulteriormente problematico purtroppo per proprio per un discorso dei video della lunghezza nonostante questo sia un testo davvero corposo ma non posso avere la pretesa di sviscerarvelo io vado per punti che hanno colpito me che io ritengo comunque fondamentali un altro aspetto è proprio quello dell'interpretazione cioè la coscienza la certezza che l'io ha della verità caratterizzata da chiarezza e distinzione questi termini li ritroviamo soprattutto diciamo come davvero in primis come molto puntuali in cartesio fino ad arrivare a hegel rimane proprio questa l'istanza suprema e non non è più però attendibile per nice e che in modo più radicale ancora di marx e di freud che pure sono campioni dello smascheramento nel pensiero del nostro tempo nice universalizza il sospetto di mascheramento di maschi di mistificazione nei confronti dell'autocoscienza introducendo proprio il rapporto della coscienza soggettiva che entra in rapporto con il mondo storico essa non si lascia pensare nella forma di una sorta di conciliazione ma richiede degli altri schemi interpretativi e questo punto proprio gadamer riprendendo tutti questi punti di vista e questo dirà che questo concetto di spirito che trascende la soggettività dell'io trova il suo vero vero punto focale nel linguaggio nel fenomeno del linguaggio ma ecco che qui vi avevo detto che avrei spiegato un momento almeno avrei dedicato qualche attimo a questi due termini che danno il titolo al libro verità e metodo attenzione non prendete mai gadamer troppo alla lettera verità e metodo verità parziale quindi non la verità con la v maiuscola una verità relativa una verità infieri una verità dinamica e il metodo è un termine polemico non è il metodo cartesiano che vuole comunque arrivare a una certezza assoluta non è il metodo scientifico ordinato insomma è un metodo non metodo e il problema rimane aperto volutamente aperto per fortuna direbbero alcuni aperto allo stesso vattimo col suo pensiero debole proprio questo metterà in luce più volte da vari versanti dopo edel poi quindi occorre trovare una formula capace di pensare il rapporto tra la coscienza individuale e lo spirito oggettivo pensando anche al concetto meraviglioso proprio di coscienza estetica che è la mia specialità la mia specializzazione è stata io sono laureata in filosofia estetica e questo tema del bello dell'opera d'arte e è connesso a tutto ciò e riprendendo Out Out di Kierkegaard l'esperienza estetica ha in sé un carattere di discontinuità l'incontro con l'opera d'arte slega l'osservatore da ogni appartenenza al proprio mondo l'esperienza estetica non termina quindi in una sorta di disinganno come accade invece per il sogno per l'illusione essa è fondamentalmente certa della verità del proprio oggetto l'incontro con l'opera d'arte è capace di segnare così profondamente la vita di una persona rappresentando proprio l'inizio del rinnovamento nel suo modo di relazionarsi con il mondo è proprio provoca dei ribaltamenti degli sconvolgimenti è come un terremoto e che in qualche modo distrugge ma poi distruggendo il vecchio si rinnova in qualcosa di nuovo è l'inizio di qualcosa di un modo diverso in nuce con cui in modo diverso di relazionarsi con gli altri con la storia con il mondo e davanti all'opera d'arte si prova la stessa gioia di conoscenza che si sente davanti alla realtà l'opera d'arte di ragà damer è una forma di conoscenza non solo per chi la contempla ma anche per l'esecutore e quindi c'è sempre questo aspetto l'interprete il lettore non sono autori ma partecipi con partecipi l'artista fa un'esperienza di verità in quanto incontra una realtà nuova un'opera musicale teatrale viene vengono fatti diversi esempi che viene modificata e arricchita e ciò viene viene detto gioco e qui ci sono delle pagine davvero fantastiche su questo concetto del gioco che non non è più la realtà originaria l'uomo comincia a giocare e quindi a creare a fingere ma la mistificazione il far finta di è proprio legato alla ricollocazione di se stesso in un mondo e quindi è anche terribilmente serio questo gioco e seppur sempre estremamente intrigante e il significato non è il voler andare a parare vi dicevo no non pensate dove gadamer vuole andare a parare perché non si tratta di voler ricollocare un'opera nel suo passato storico naturalmente occorre tener conto conoscere proprio indagare il contesto storico da cui questa opera proviene ma l'esperienza estetica modifica modifica perché accade in quanto l'opera inserita nel nostro mondo viene esperita viene fruita nel nostro mondo viene interpretata perché tradotta perché criticata e quindi l'esperienza estetica modifica realmente chi la fa e implica il problema della mediazione tra l'opera d'arte e il mondo del lettore o dell'interprete dell'autore e del critico d'arte quindi c'è sempre questa relazione questo dialogo tra il passato dell'opera creata e il presente di chi ne fruisce da di chi nella critica o da chi la traduce o la interpreta e il compito ermeneutico quello di interpretazione è di integrare questo è molto importante integrare integrare la rottura con la tradizione la verità come evento sarà costituita dall'incontro con un fatto che in quanto è accaduto da una parte è passato e deve essere integrato ma non semplicemente ricostruito e qui di nuovo rientra in ballo quello che vi dicevo all'inizio del video c'è il concetto di circolo ermeneutico che ci riporta al fatto che le parti si capiscono solo alla luce del tutto e il tutto è compreso solo in base alle parti e ciò accade dove nel linguaggio in ambito linguistico esso costituisce quell'assoluta mediazione di coscienza soggettiva e di spirito oggettivo è proprio il teatro è di questa mediazione la parola è il simbolo è paraballo quindi congiunge e mette in relazione e media tra queste questi mondi è importante nello studio dell'ermeneutica come fenomeno dei di comprensione il concetto di bildung come cultura come formazione e non basta osservare diligentemente o studiare con sempre maggiore profondità una certa tradizione se non si possiede già una sensibilità per la novità per la diversità che l'opera d'arte o il passato presentano per noi e appunto seguendo Hegel abbiamo riconosciuto la caratteristica generale della cultura del bildung nel suo saper mantenere aperti dei punti di vista universali per ciò che è altro e diverso e la cultura proprio implica questo e implica un senso di misura e di distacco da una parte da se stessi innalzandoci verso l'universale proiettandoci verso un qualcosa di più grande di noi ma non come un criterio già fissato o sempre con l'idea di dove si vuole andare a parare ma spaziando liberamente e soprattutto pensando che questo criterio non verrà mai fissato una volta per tutte quindi anche se noi paradossalmente arrivassimo a un punto a dove vuole andare a parare vuole andare a parare lì 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 poi questo è continuamente rimesso in discussione da altri da altre culture da una complessità direbbe l'uman del mondo attuale e poi anche in futuro da tutto ciò che continuamente si evolve l'uomo colto è tale secondo grassia perché riesce a collocarsi nei confronti di tutte le cose della vita e della società in un libero distacco che può decidere scegliere con consapevolezza un altro termine importante oltre a bildung è erlebnis come materiale elementare per la costruzione di ogni conoscenza possibile come una coscienza attiva che esprime un'esperienza vissuta o vivente che sta nella immediatezza che precede ogni interpretazione è un momento come direbbe simmel dello stesso processo vitale ma ancora riprendendo andando a riprendere quasi per i capelli il gioco ecco esso ha una funzione estetica questo termine non indica il comportamento di un soggetto che sia esso un fruttore o un creatore che proprio il gioco che non è mai qualcosa di serio ma si gioca in vista della della ricreazione direbbe come diceva insomma aristotele nel giocare è riposta però una peculiare sacrale serietà e solo la serietà del giocare fa sì che il gioco sia interamente gioco il soggetto del gioco però non sono i giocatori che giocano ma il gioco stesso che si produce attraverso i giocatori l'essere del gioco non esige un soggetto che si atteggia ludicamente il senso originario del verbo è quello mediale qualcosa si svolge qualcosa è in gioco da questo senso mediale del gioco nasce la possibilità di metterlo in rapporto con il modo di essere dell'opera d'arte la reciprocità appartiene alla natura del gioco perché vi sia il gioco infatti non è necessario che ci sia sempre qualcuno che vi partecipi occorre però che vi sia almeno qualcosa d'altro con cui proprio il giocatore gioca che fare che risponde al suo movimento con un altro movimento simmetrico ci deve essere una contropartita alla partita quindi il giocatore è un proprio è quindi legato a questo gioco a questo giocare a questa azione che un processo naturale e ci dirà gadamer e la reciprocità appartiene alla natura stessa del gioco e il fascino che il gioco esercita sul giocatore risiede proprio in questo rischio questa incertezza perché il gioco mette alla prova e non si sa prima di giocare come andrà a finire e questo esercita un'attrazione proprio il fatto che il gioco diventa signore del giocatore se non padrone signore signoreggia sul giocatore e anche lo spettacolo teatrale è gioco e ognuno fa la sua parte la rappresentazione proprio dell'arte è un fatto che deve sempre svolgersi tra nella reciprocità degli attanti e presuppone coloro che stanno a guardare ad ascoltare per esempio chi si traveste non vuole essere riconosciuto ma apparire essere considerato come qualcun altro non vuol più essere se stesso e questo anche nel gioco del travestimento è proprio così ci si traveste si fa finta di però è terribilmente serio questo gioco e non vuole chi si traveste che venga riconosciuta che si indovini la sua identità recita la parte dell'altro e apparentemente rinnega la continuità con se stesso non vuole appunto che lo si riconosca in realtà tiene per sé tale continuità con se stesso la nasconde agli altri di fronte a cui recita e qui abbiamo una pagina molto interessante dove dice la trasmutazione è una trasmutazione nella verità non è una specie di incantesimo magico che aspetta sempre la parola che ce ne liberi facendoci ritornare al mondo di prima è invece essa stessa una tale liberazione e un ritrovamento del vero essere nella rappresentazione del gioco viene in luce ciò che è che è in essa viene tratto in luce ciò che altrimenti sempre si sottrae e si cela la realtà sta sempre in un orizzonte aperto sul futuro di possibilità desiderate o temute ma comunque non ancora decise è quindi costituita in modo che vengono risvegliate delle aspettative e quando però in particolari casi riesce a costituirsi nella realtà un insieme significativo tale che questo usuale finire nel vuoto di certe possibilità per un momento scompare allora una realtà essa stessa come uno spettacolo in questi casi in quella realtà è compresa come gioco viene in luce che cos'è la realtà del gioco che noi abbiamo caratterizzato come il gioco dell'arte l'essere di tutti i giochi è sempre la liberazione il puro compimento energeia che ha il suo telos in se stessa il mondo dell'opera d'arte in cui un gioco si esprime pienamente nell'unità del suo svolgimento è in realtà un mondo totalmente radicalmente trasfigurato davanti a esso ognuno riconosce che è proprio così anche l'antica teoria dell'arte che pone alla base di ogni arte la mimesis limitazione prende le mosse dal gioco che come una danza è la rappresentazione del divino quindi questo elemento sacro del divino che rintracciamo in noi e che attraverso l'arte possiamo proprio come occasione ognuno di noi attraverso la fruizione dell'opera d'arte anche arrivare a una nemesi a una catarsi e a una crescita interiore e guardando uno spettacolo e la tragedia greca ne abbiamo già parlato ma è importante l'opera d'arte non è isolabile dalla contingenza il dramma è davvero là dove è rappresentato e quindi l'opera d'arte appartiene al mondo nel quale si presenta e lo spettatore è un momento esenziale di questa sorta di gioco che noi chiamiamo estetico e mi rendo conto che sarei a parlarvi per ore proprio di questi aspetti estetici io naturalmente sono attirata moltissimo dal discorso estetico sono laureata in filosofia estetica è la mia branca la mia specializzazione però vi metto in guardia da non lasciarvi furviare perché l'ermeneutica è disciplina sicuramente che si lega all'opera d'arte all'estetica al concetto di gioco alla cultura al mondo storico all'erlebnis e al bindung ma prima di tutto è un concetto di tipo ontologico e quindi è interpretazione di un senso di una verità non univoca ma dinamica e in continuo divenire che noi rintracciamo attraverso l'interpretazione e quindi lo scopo di indagare l'ermeneutica non è quello estetico per quanto possa essere affascinante bensì ontologico non facciamoci troppo rapire dalla bellezza della rappresentazione lo stare in un luogo e poi in un altro è rappresenta l'essenza stessa del simbolo e quindi c'è una funzione rappresentativa che richiede da noi fruitori critici d'arte interpreti o traduttori il prendere questo simbolo che non è puro e semplice rimando e non è neanche solamente però avulso da questa storia e piuttosto fa apparire tutta una serie di elementi che l'opera d'arte potrà vivere da una parte nell'estraneazione cioè nel distacco da quello da cui deriva e dall'altro del recupero della sua matrice originaria c'è questa operazione duplice che l'interprete il traduttore il fruitore deve comunque sforzarsi di fare ho parlato di teatro ho parlato di gioco naturalmente anche di musica ma chiedo vi chiedo ci chiediamo ma la letteratura la letteratura è un gioco e mi emozione qui dirlo fondato su lo scritto lo scritto come un'arte segreta come una magia che da una parte ci libera e l'altra ci lega e si fonda sulla comprensione e appartiene a realizzarsi del senso e la disciplina classica a che fare proprio con l'ermeneutica è questa l'ermeneutica l'estetica quindi deve risolversi nell'ermeneutica deve interfacciarsi nell'ermeneutica cogliere il significato dell'opera sarà allora una operazione di ricostruzione dell'originario da una parte sì naturalmente ricostruzione del mondo a cui appartiene sia l'opera sia l'artista certamente non si può non presupporre che una conoscenza da parte di chi interpreta di questo aspetto storico passato ma non è solo questo e qui c'è la metafora vi invito a leggerla è stupenda di hegel che ci parla di un frutto questa comprensione è un frutto che ci porge una bellissima fanciulla dopo averlo dopo averlo staccato dall'albero quindi è chiaro che per assaporare appieno questo frutto seguiamo la metafora occorre conoscere da una parte l'albero da cui deriva tener conto dell'albero da cui deriva da cui si è maturato da cui è nato e si è maturato da una parte dall'altro però è un'altra cosa è un'altra cosa e quel frutto ci viene dato da questa bellissima fanciulla e allora non si parla solo di ricostruzione naturalmente ma appunto c'è questo scacco tra la vita il mondo storico restaurato e quello originario e la condizione presente e concludo questo video di gadamer questa prima parte e intanto invitandovi a a leggere e poi a prepararvi alla parte seconda che seguirà nel prossimo nel prossimo video e prendo congedo e con le parole di hegel hegel enuncia qui una verità decisiva in quanto l'essenza dello spirito storico non consiste nella restituzione del passato ma dalla mediazione operata dal pensiero con la vita presente hegel ha ragione a non vedere tale mediazione pensante come un fatto esteriore e accidentale ma a porla invece allo stesso livello della verità dell'arte stessa anche noi attraverso il problema della verità dell'arte siamo stati condotti a una critica della coscienza estetica come di quella storica giacché il problema che abbiamo posto riguarda la verità che si manifesta nell'arte e nella storia e io aggiungerei dire quella che poi andrà a formare continuamente in divenire anche la nostra interiorità il nostro essere bene alla prossima grazie namastè